Questo video riguarda i migliori 3 router 4G. Il vincitore della qualità è l'IoJant Acquistare 1200. Inserite una scheda SIM 4G nel router 4G e condividete la vostra rete 4G LTE con un massimo di 64 dispositivi Wi-Fi e godetevi una velocità di download fino a 150 Mbps. Supporta i tipi di rete. LTFDD B1-B3-B7-B8-B20-B28 LTE-TDD B38-B40-B41 WCD B1-B8 GSM 900-1800 MHz Il modem 4G SIM sfrutta lo standard Wi-Fi Acquistare 1200 su doppia banda e raggiunge una velocità massima di 867 Mbps su 5 GHz e di 300 Mbps su 2.4 GHz. Disabilitare il codice PIN della scheda SIM e inserirla nello slot SIM sbloccato del router 4G LTE con SIM. Godetevi lo streaming video HD, le video chiamate e il download di file su smartphone, tablet e laptop con questo router wireless 4G. Assicurarsi che le informazioni APN siano identificate da questo router 4G. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il KEN di acquistare 1200. LIL-T500 utilizza la tecnologia LTE 4G di ultima generazione per raggiungere velocità fino a 150 Mbps, supporta entrambe le bande di frequenza FDD e TDD, compatibili con la maggior parte degli operatori europei e medio orientali. A differenza di altri router N300 a banda singola da 2,4 GHz, LIL-T500 offre un'esperienza utente migliore fornendo bande Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Le antenne 4X 5DB ad alto guadagno aumentano la sensibilità del router, migliorano la qualità del segnale di 4G LTE Wi-Fi, il che aiuta a stabilire una connessione Wi-Fi a lunga distanza. Con il client VPN PPTP barra L2TP integrato, questo router 4G può facilmente stabilire una connessione al server PPTP barra L2TP per trasportare tutti i dati e il traffico online, proteggendolo con la sua criptografia allo stesso tempo. Compatibile con altri 20 provider di DNS, comodo per gestire le telecamere remote. Il vincitore del premio è il TP-Link TL-Mister 6400. Nuova versione 5.2 con antenne staccabili, ha ottima ricezione del segnale 4G e stabilità, attenzione, verifica la compatibilità con altre antenne prima di acquistarle. Permette di navigare senza linea fissa, in ambienti dove la DSL è assente, come le case vacanza, o troppo lenta e costosa. Nessuna configurazione richiesta, basta collegare la scheda SIM e mettere in funzione l'Hotspot LT e togliere il pin di sblocco dalla scheda SIM Iliad prima di inserirla nel router. Velocità 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, inoltre permette di connettere via Wi-Fi fino a 32 dispositivi. È possibile impostare un limite massimo di consumo dati mensile, raggiunto il quale il router si sconnetterà in automatico dalla rete. Porta l'AMBAN liberamente configurabile per collegamento alternativo via cavo o modem a fibra ottica. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.